Bene, grazie. Io sono Palmino Fronte, sono il responsabile scientifico di Saffoa. Saffoa è una scuola a Milano, il cui acronimo è scuola di alta formazione per amministratori e noi ci occupiamo da una decina d'anni di formazione manageriale e di amministratori di condominio. Prima di incominciare ho messo qui il cellulare in modo che sto giusto nell'ora, so che i miei discorsi sono un po' noiosi, quindi cerco di essere contingentato nel tempo. Ringrazio l'organizzazione, anzitutto ringrazio Virginia Gambino che nonostante il Covid, nonostante la pandemia, nonostante questa crisi economica e sociale è instancabile e è riuscita a dare un'opportunità a tutti quanti noi, quindi grazie ancora. Il tema di oggi riguarda proprio l'amministratore di condominio e sono i non compiti dell'amministratore, il titolo è un po' particolare. Per arrivare a questo parto prima da un concetto un po' particolare, la risorsa. Che cos'è la risorsa? La risorsa è qualcosa di cui ce n'è poco o addirittura non ce n'è. Quindi in questo caso l'aria non è una risorsa, ne abbiamo in abbondanza, basta aprire la finestra. Alcune risorse sono critiche, quindi il denaro assolutamente non ce n'è mai tanto, quindi è una risorsa abbastanza limitata e così anche il personale di uno studio, di un'azienda, di un studio amministrativo, non ce n'è tantissimo e ce ne vorrebbe qualcuno in più. Anche il tempo è una risorsa. Qual è la piccolità? Che se non ho il denaro me lo faccio pestare e posso anche mutuarlo. Se non ho personale posso assumere altro, posso assumerne. Ma se io ho perso un'ora, ho perso un'ora e non la posso più recuperare. Quindi quando faccio tre telefonate da 20 minuti la mattina e quando dico tre telefonate da 20 minuti non è che dico una cosa fantastica, dico la normalità, ho perso un'ora e quell'ora non la posso più recuperare, non la posso accattastare, non la posso preventivare, non la posso non posso farci niente. Noi abbiamo tutti 168 ore da viva a settimana, né più né meno. Il problema è come gestiamo il tempo. Quindi il problema è dominare il tempo o essere dominati, gestire il tempo o subirlo. Quindi la prima risorsa che noi abbiamo è il tempo e tutto il nostro lavoro gira intorno al tempo perché comanda lui. Perché il tempo più delle volte diventa anche una moneta di scambio. Perché ho parlato di questa risorsa? Perché in un compito dell'amministratore comportano questo. Noi perdiamo tempo in tante sciocchezze che non ci competono. E il tempo per noi è denaro. Non possiamo permetterci di sprecare una risorsa così importante. Il tempo mi permette di fare tutto quanto. Io potrei imparare il pianoforte mettendo 3.000-5.000 ore di studio su pianoforte o anche il tedesco. È una possibilità che io ho. Sprecarla in modo non attento sicuramente è un danno per me, per la mia azienda, per la mia economia. Veniamo adesso a portare alcuni esempi su come si perde tempo nell'amministrazione condominiale. Porto degli esempi concreti in modo da poter comprendere meglio queste cose. Mi viene anche più facile così. Il condominio è composto da due parti. Le parti che sono condominali e le parti che sono private. Io da amministratore mi devo occupare solo delle parti che sono condominali. Quindi se si rompe un pluviale, se si rompesse un montante d'acqua è compito mio. Faccio due cose. Uno la ricerca a guasti e come seconda cosa vado a riparare il tubo. Quando invece questo danno non comprende, non comporta un danno o una rottura condominiale, ma porto un esempio, il piatto doccia dell'asciura maria che è al piano di sopra che si è rotto e goccia acqua, non è compito mio. Il compito mio rimane solo la ricerca a guasti. Ma tutto il resto sono cose che non mi riguardano, a cui non devo comunque neanche mettere naso. perché è un danno fatto da un privato ad un privato e quindi deve essere la parte danneggiata che deve cercare di recuperare il credito o quantomeno farsi aggiustare il proprio plafone dalla parte danneggiante. È un fatto loro. Io su questa cosa non c'entro assolutamente. Nel momento in cui io mi metto in questo gilepraio commetto degli illeciti perché esco fuori dal mio lavoro. È un eccesso di potere. Non potrei farlo. In realtà non succede così. Spesso l'amministratore si mette in mezzo in cose che non sono sue. Anzi, il più delle volte fanno l'errore in più. Il più delle volte aggiusta la doccia dell'asciura maria, ripare il plafone del suo Gianni con i soldi del condominio e quindi commette un illecito perché usa i soldi che la collettività condominiale, che i comunisti della comunione hanno dato a lui per poter mantenere il bene comune, per delle cose private. Porto un esempio. Se io ho un tesoretto che mi è andato nel condominio e io con questi soldi prendo e riparo la mia autovettura privata, la mia macchina, faccio la revisione e dopo tre mesi rimetto i soldi in cassa, io ho commesso un illecito anche se non c'è un depauperamento del condominio perché io ho portato via dei soldi e l'ho distratti per una cosa mia personale. Se io uso i soldi del condominio per aggiustare la doccia del piano di sopra, io ho commesso un illecito perché ho usato i soldi che tutti mi hanno dato per riparare la doccia dell'asciura maria e non devo farlo. Non solo, li faccio anche da banca perché adesso riparo la doccia. Poi la signora mi darà questi soldi a conguaglio il prossimo anno. Quindi con i soldi del condominio ho dato comunque un anticipo alla signora, non potevo farlo. Questo è l'errore che viene fatto sempre e quindi sono i non compiti dell'amministratore. Noi più di volte veniamo tirati per la giacchetta per risolvere questi problemi. Questa è un'infiltrazione d'acqua ma nel condominio ce ne sono tante alle quali io non devo metterci mano. Ad esempio se anziché l'infiltrazione d'acqua dalla doccia fosse un'infiltrazione sonora che viene dalla cassa acustica è la stessa identica cosa, non è affermio. È il danneggiato privato che deve vedersela con il danneggiante privato. Per cui se al quarto piano fanno una festa e mi dicono quelli del quarto piano stanno facendo baccano, signora, citofoni. Devo dire questo perché in effetti è così. A lei la festa dà fastidio, a me non dà fastidio. Anzi l'errore che fa l'amministratore è quello di mettere per scritto le elementi e le verbali. Quindi c'è la condomina del secondo piano che mi chiama a voce e mi dice che c'è un problema per la festa e io scrivo. Ovviamente quello del quarto piano si arrabbia. Mi dice sì è vero abbiamo fatto la festa. C'è la partita dell'Italia, la finale alle undici eravamo tutti a letto. Sì è vero domenica c'è stato baccano, mio figlio ha fatto il compleanno, c'era tutta la classe, alle sere eravamo tutti a casa. Quindi come faccio io a fare difese degli altri? In realtà perché c'è un gioco particolare, perché ognuno vuole che noi facciamo le guerre degli altri. Ognuno vuole che la sua priorità diventa la mia. Questa cosa vale per qualsiasi tipo di infiltrazione. Se anziché avere una cassa sonora che fa baccano o un'infiltrazione data dal profumo del kebabbaro che è sotto, o della pizzeria o della rosticeria toscana o genovese che sia, che manda delle esalazioni di profumo, è sempre un privato che crea danno a un altro privato. Non mi compete e non ci devo mettere comunque naso. Sono tutte questioni comunque private. Quindi se quelli del primo piano mi dicono ma il bar sotto fa baccano, ci sono i ragazzi che escono con la birra in mano, chiamate la polizia. Ma quelli non escono, chiamate i vigiurbani, e non escono. Ma io non posso fare niente. Io non sono il poliziotto del condominio che metto il cappello in testa e faccio il custode. Questo non è il compito mio. Il mio compito è quello di amministrare la cosa comune. Anzi, come statore sono un contabile e devo attenermi a questa regola. Purtroppo questo malcostume lo abbiamo in tante materie. Quando i giudici fanno gli avvocati, gli avvocati fanno i giudici, non si capisce più niente. Se noi facessero il proprio lavoro seriamente, andrebbe bene ogni aspetto della vita sociale e lavorativa, come in questo caso comunque il condominio. Dove sta l'arcano? Dove sta l'inghippo di questa cosa? L'inghippo sta nelle priorità, che ognuno di noi ha delle priorità. Ma ognuno vuole che le mie priorità diventino quelle degli altri. E questo capita sempre. Il condominio è il paradiso di questo malcostume. Per cui se la Shura Maria, che ho accettato prima, si lamenta perché hanno messo un profumo nell'ascensore, chiama tutti. Ah, c'è un profumo, non riesco a sopportarlo, mi dà fastidio, dovete toglierlo. Un attimo signora, nel condominio ci sono 40 condomini. Lei è una sola. Ed essendo una sola non può pretendere che venga comunque tolto un profumo solo perché lei dà fastidio. Ma lei questa cosa non l'accetta, perché la signora vuole che la sua priorità diventi la priorità di tutti. Se Shurgiani vuole che si tagli l'erba, fa credere che questa crisi sia una priorità del condominio. Ma non è una priorità del condominio, è una priorità sua. Purtroppo nell'assemblea di condominio succede questo. L'assemblea di condominio è l'unico luogo deputato a decidere su queste cose. Anzi, a dirla tutta, è uno dei pochi baluardi di democrazia che abbiamo nel nostro Stato. E nei momenti in cui abbiamo questa democrazia, bisogna comunque votare. In realtà la gente non va in assemblea di condominio per esprimere un voto, perché si va in assemblea per votare. Favorevole, contrario, astenuto. In realtà si va in assemblea di condominio sperando di convincere gli altri. Perché lo schema è quello che si vuole sempre, così fanno anche i politici con noi, che le loro priorità, che sono loro, diventino le nostre. Nel momento in cui mi faccio impantanare in questa cosa, allora in questo caso nascono i pasticci. Quindi mi chiama il signor Gianni e mi dice, c'è uno scarafaggio in cantina, chiamate disinfestazione, deratizzazione, caschi blu, l'ono, quello che volete voi. È un problema, c'è uno scarafaggio, lo schiaccia, immobile a 50 anni, può capitare uno. In realtà è una sua priorità e la sua priorità vuole che comunque diventi la priorità di tutti quanti. Questi studi sono stati fatti nel 77, quando è nata la PNL. la PNL è l'acronimo di programmazione neurolinguistica, dove si è studiato, dove sono studiate alcune persone, sono stati da due fondatori, è nato comunque in America, non è una scienza perché non è riconosciuto ufficialmente come scienza, però è molto diffusa. Sono due terapeuti che sono andati in giro in California per capire perché alcuni medici avevano successo e altri medici non avevano successo. E da lì sono nati dei lavori di statistica, la scienza nasce dall'osservare il mondo e da trarne comunque delle regole. Hanno studiato perché alcune persone erano persone di successo e altre non lo erano, perché alcune persone riuscivano a guarire da un medico e altre non riuscivano comunque a guarire. Cos'è che rendeva queste persone di successo, questi professionisti di successo e altri non lo erano? Tante cose, tra cui il calcolo delle priorità. Un professionista di successo fa prima le sue priorità e poi fa quelle degli altri. Nel momento in cui viene impantanato nelle priorità degli altri, non soltanto non riesce a risolvere, ma non fa neanche bene il suo lavoro. Quindi lo schema lavorativo e occuparsi, può sembrare egoistico, ma in realtà non lo è, prima di se stessi e poi comunque degli altri. Io che sono amministratore, non lo sono, questo è un esempio, io che sono amministratore mi devo occupare più del mio studio che dei condomini, perché nel momento in cui mi occupo a fare un'ottima contabilità, a mettere a norma il condominio, e qui oggi abbiamo una serie di workshop che ci spiegano quanto è difficile amministrare un condominio, mi occupo di fare il mio lavoro diligentemente, mi occupo del mio programma gestionale, mi occupo delle mie segretari, dei masionali, delle procedure, di mettere le regole i portieri, di rispettare tutte le norme sulla sicurezza. Nel momento in cui faccio il mio lavoro e mi occupo più di me stesso che sono le mie priorità, sono un buon amministratore. Nel momento in cui vengo tirato per la giacchetta e faccio le priorità degli altri, ecco, in quel momento comunque mi impantano. Ed questo è l'errore che viene fatto. Ovviamente io richiamo un po' quello che ho detto prima, il tempo. Tutto questo ci fa perdere tempo, che il tempo è una risorsa. Se ho perso un'ora, con un cretino ho perso un'ora. Nessuno me lo istituisce. Devo fare attenzione a questo. Quindi devo fare attenzione a come devo gestire comunque il mio tempo. Perché dico questo? Perché il tempo è denaro e il primo guadagno lo facciamo con la spesa. Riducendo la spesa guadagno di più. Il tempo addirittura è una moneta di scambio. Facciamo, vediamo un esempio. Conosciamo un po' tutti come si gioca a poker. Io punto mille e il mio avversario punta duemila. Cavoli, io ho due possibilità. O con guaglio e punto altre mille in modo che pareggiamo i conti e posso vedere e allora vince chi è più forte, chi ha le carte in mano, chi ha più ragione in quel momento. Oppure lascio perdere. E poi magari perdo la mano, magari avevo delle carte migliori delle sue, ma comunque non ho visto e non potevo fare niente. Quindi mi trovo un condomino che mi chiede una cosa, una sua priorità che invece non posso fare. Vada da quelli di sopra a dire che non si può fare, sono fare i festini la sera, non è compito mio. E quindi dico di no. E punto minde. Lui siccome non ha niente da fare, a differenza mia, comincia a stressarmi. Mandare mail, fax, comunicazioni, raccogliere deleghe, a bloccarmi un'assemblea, mica è un problema. E quindi io ho due possibilità. O rispondo mail per mail e quindi punto e vedo. E siccome ho delle carte migliori vinco, o lascio perdere. Molte volte gli amministratori lasciano perdere. E quindi poi si trovano impantanati in situazioni che comunque non li competevano. E questo gioco del poker noi lo vediamo sempre in ogni questione condominiale. Torno all'esempio di prima, quando parlavo della doccia. La doccia non mi compete. Io mando il mio operaio su ad aggiustare comunque lo scarico. La signora dice, ma come? Aggiustate voi. Io pago il condominio, dovete aggiustare la doccia. Perché non compete. Io lo faccio perché mi ha fatto la testa così, perché mi manda una mail al giorno. E gli amministratori dicevano anche 100-150 mail al giorno. E non è una cifra esagerata. Purtroppo è la triste verità. E allora pur di non sentire questa persona, allora si concede questa cosa. Poi succede che l'assicurazione non mi paga il sinistro, perché ovviamente è un sinistro privato. La signora Maria poi non mi paga il debito, perché io ho debiti personali, non le posso fare. La legge me li vieta, la Cassazione me li vieta. Non posso fare un debito personale. Se la legge me lo vieta, perché lo devo fare? Perché devo andare contro la legge per seguire la priorità di una persona? E quindi mi trovo un consuntivo che può essere impugnato. Magari un avvocato in platea che mi dice, no, io ho un pugno consuntivo. E c'è ragione. E quindi mi trovo nel guai io. E poi ho una responsabilità mia professionale. Ma chi me lo fa fare? Quindi molte volte il seguire le persone e riuscire comunque ad assecondare le loro priorità, a scapito delle mie, mi chiede comunque un maggior danno. Tutto questo da dove viene? Da una cosa particolare. È l'incapacità a dire di no. Perché se io fossi capace a dire di no, e ci vuole un po' di competenza e a volte un po' di lucidità, ho la possibilità di evitarmi tutte queste cose. Quindi il problema non è di chi fa la sua priorità, che fa anche il suo gioco. Il problema è che io non sono capace a comunicare e non sono capace a dire di no. Chi è l'amministratore? L'amministratore è uno che comunica, che comunica sempre. Con i verbali, con i consiglieri, in assemblea, con le mail, a telefono, è un comunicatore. E c'è una regola particolare. La comunicazione o la studi o la subisci. E chi non studia comunicazione, poi molte volte la subisce. E quindi quando abbiamo la Shura Maria, i Shura Gianni, che ci tempestano con le loro richieste improprie, e non sono capace a dire di no perché non ho nessuna forma, uno studio retorico, non mi ha fatto nessuna forma di retorica, nessuna forma di schema psicologico su come si può gestire questa cosa, allora in questo caso soccombo. Porto un esempio. Se mi trovo il condomino lì in prima fila, mettiamo un condomino immaginario, che mi dovesse chiedere, stasera usciamo a cena. Io non posso dire di no, perché nel momento in cui dico di no, me lo inimico e non posso farci niente. Devo dirgli sì, ma non voglio uscire. Cosa faccio? Mi invento un terzo soggetto che non esiste, al quale lui non può più fare nulla. E dico, caro condomino, io vorrei tantissimo uscire con te stasera. Ma mia moglie mi uccide. Abbiamo appena litigato. Ieri sera ho fatto tardi, mi ha fatto la testa così, ho detto che vuoi divorziare, che faccio? Esco con te o divorzio con mia moglie? Ecco, nel momento in cui io ho un rapporto a due, e questo rapporto a due lo faccio diventare a tre, ho fatto fuori il mio interlocutore e ho la possibilità di uscire brillantemente da una situazione. Adesso io ho riassunto in tre secondi un cuore di lezione, non riesco comunque a dire più di questo. Però capite che la retorica si studia e nei momenti in cui io posso studiare una retorica, posso studiare una forma di retorica, ho la possibilità di uscire brillantemente da alcune situazioni. Io spesso mi trovo davanti delle persone problematiche e le persone problematiche che non cambia mai. Un cretino è sempre un cretino, non posso mai cambiarlo. Tra me e lui posso cambiare solo me. E quindi se la persona mi mette in difficoltà è perché io non sono capace, non ho i mezzi per uscire fuori da alcune situazioni che sono difficili. Quello che vi sto dicendo io adesso non è farina nel mio sacco. Eric Byrne nel 1965, quando sono nato io, c'erano ancora i Beatles e la Rolling Stones, ha scritto un libro A che gioco giochiamo. E lì è nata l'analisi transazionale, da cui ho preso queste cose che vi ho detto adesso. Adesso c'è un'università in California intitolata Eric Byrne. Pensate su come affrontare le persone problematiche e le situazioni difficili. C'è un bollettino che esce in inglese ogni 15 giorni sull'analisi transazionale, sui rapporti con le persone e come uscire brillantemente dalle situazioni difficili. In realtà noi dobbiamo condurre in condominio, dobbiamo convincere i condomini a volte. Condurre vuol dire portare insieme, convincere vuol dire vincere insieme. E se io non ho la capacità di condurre una persona o di convincere, non sono fatto per questo lavoro. Quindi o ho questa capacità acquisite, e c'è chi ce l'ha, ma più di volte devo comunque studiare, studiare, formarmi. Questo è il lavoro che facciamo in Safoa. Noi in Safoa abbiamo dei seminari, dei corsi in cui ci occupiamo proprio della comunicazione delle persone problematiche. Spieghiamo come si va in assemblea. In assemblea le persone si siedono sempre allo stesso punto. da come sono sedite le persone nei loro posti, da come sono atteggiate, da come cavano le gambe, dalla loro postura, dal loro linguaggio non verbale, capiamo molto. Perché, come dicevo, la persona problematica non cambia mai. Anzi, l'intelligenza, il cambiamento è una forma di intelligenza. Le persone intelligenti cambiano sempre. Quando ci troviamo una persona problematica, basta prendere il verbale, due anni fa diceva questa cosa, tre anni fa diceva la stessa cosa, da cinque anni fa diceva la stessa cosa, non cambia mai. La persona che va alla lavanderia litiga nella lavanderia, attraversa strisce pedonale litiga con le macchine, viene in assemblea di condominio litiga comunque con noi. E sono quelli che ci fanno perdere tempo. E noi dobbiamo fare attenzione perché non sono facili e dobbiamo risolvere queste problematiche comunque con metodo. Il libro A che gioco giochiamo, di Enrico Borno che ho citato adesso, parlava un po' di questo. Le persone che spesso fanno dei giochi transazionali e passano tutta la vita a fare dei giochi transazionali. E molte volte sono dei provocatori. E ci impantanano, uso sempre questo termine, nel loro gioco. Perché per loro è comunque importante. Quindi quando un amministratore va in assemblea, si trova un condomino che si alza e dice come mai ha messo la fattura? Ecco, a lui quel come mai non gli interessa. È una provocazione. È una persona che ha un complesso di inferiorità, che va in assemblea di condominio per dire io sono seduto qui in Patea, ma non è tuo amministratore che se è sulla schivania vali più di me. Ti faccio vedere che trovo l'errore e io ti posso anche fregare. Quindi non valgo così poco. Ecco, queste sono persone che hanno il complesso di inferiorità, che poi parlano di politica, parlano del Papa, di Renzi, di Berlusconi, quel cameriere del bar, ma non hanno una Patea. L'unica volta che possono alzare la mano e dire io voglio che questa cosa venga messa a verbale è in assemblea di condominio. E noi ci ritroviamo lì. Ogni condominio, la popolazione latina come la nostra, ha dal 2 al 5% della popolazione che è fuori di testa, usando un termine non tecnico. Su un palazzo di 40 famiglie e 100 residenti noi abbiamo da 2 a 5 matti. Quindi bisogna saperlo. Non dobbiamo stupirci, perché il mondo è così. E' come se io adesso andassi qui a Verone in macchina, in motorino, e mi stupissi che qualcuno mi taglia la strada, mi tagliasse, mettiamoci un congiuntivo che fa chic. Ovviamente la circolazione stradale è quella, il condominio è comunque quello. Quindi mi trovo sempre delle persone problematiche. Qual è la peculiarità? Che le persone problematiche hanno molto tempo a disposizione. e giocano con me. A che gioco giochiamo? A farmi perdere tempo. E siccome il tempo è vita, sprecare il tempo è sprecare la vita, dominare il tempo è dominare la vita, io devo fare attenzione a non cadere in queste trappole. Più sono attento a queste cose, più riesco a guadagnare il tempo. Più sono capace a dirvi no, più riesco a guadagnare il tempo. E devo fare attenzione, non mi devo mai perdere in queste cose. Purtroppo l'errore è sempre dietro l'angolo. È chiaro che quando parlo con una segretaria e facciamo formazione che ha 60 anni, è capace di rispondere bene al telefono. Dopo 40 anni di bastonate, è chiaro che poi alla fine hai imparato la retorica di rispondere bene al telefono e a sfangarsela, usando un termine improprio, in situazioni problematiche. La formazione serve per portare una persona giovane a 20 anni, che ha 20 anni, ad avere l'esperienza di una persona a 60 anni. E purtroppo, io che faccio spesso assemblee di condominio, come consulente, non manco mai di imparare e non manco mai di stupirmi ogni volta. Quindi c'è sempre comunque da imparare su questa cosa. Però occorre avere metodo. Noi andavamo bene a scuola perché avevamo metodo, andavamo male perché non avevamo metodo. Se io penso di poter lavorare con le persone problematiche o nel condominio senza metodo, se penso di fare una comunicazione all'interno del condominio senza metodo, torno al discorso di prima. La comunicazione o la sa fare o la subisce. E spesso gli amministratori subiscono comunque l'aggressione, l'aggressività dei condomini. Non sanno muoversi. A volte si va nella seba di condominio e vede amministratori con la calcolatrice che sono messi lì, non guardo neanche in faccia le persone, non saluto neanche, è chiaro che dopo un po' le aggrediscono. È normale. Non fanno nulla per gestire comunque la comunicazione. E poi soprattutto, nei momenti in cui ho detto prima una frase importante, che non è mia, tutto quello che vi dico oggi non è mio, l'ho letto, lo riporto. Convincere e vincere insieme. E su questo io devo convincere. La politica è l'arte del consenso. Ma infatti, quando Aristotele diceva che la politica è l'arte del consenso. Ma il consenso io ho due modi per poterlo prendere. O con la logica o con la passione. E con la logica non funziona mai. Quindi per poter convincere una persona, io devo puntare sulle sue emozioni. Come fa la pubblicità? Compati sta macchina e diventi potente. Prendi questo shampoo e sarai bellissima, affascinante. Si punta sempre sulle emozioni. Se io devo vendere un prodotto, che c'è qui nel workshop, e devo portare un'assemblea di condominio, basandomi sulla logica, e dicendo con questo cappotto termico passiamo dalla trasmittanza 0,50, la trasmittanza 0... La gente non mi dirà mai di sì. Perché non ho saputo comunicare. Non ho saputo comunicare emozioni. E nei momenti in cui non riesco a far capire il bello delle cose, non faccio capire l'opportunità, il vantaggio che le persone hanno, le persone non mi daranno mai il loro consenso. E quindi io come istratore non riesco a far passare quello che in realtà sarebbe più intelligente per tutti quanti, come fare un cappotto termico, che davvero ci vorrebbe, e soprattutto subiscono l'assemblea dei condomini. Quindi io ho una pratea, che sono i condomini, e devo comunque convincerli. La politica è l'arte del consenso. I politici sono molto bravi. Non usano i congiuntivi come ho fatto io. Soggetto, verbo, complemento. Già il modo di parlare è molto più semplice. Non è che sono così semplici il loro modo di pensare. Sono molto bravi. Però hanno una capacità retorica che li comporta ad avere comunque consenso. Cosa che l'amministratore comunque non ha. Torniamo un attimo ai nostri non compiti dell'amministratore. Come dicevo, l'amministratore deve sapere dire di no e non farsi impantanare nelle richieste. Soprattutto l'amministratore deve fare una cosa. Deve sapere delegare. Perché comunque è il suo lavoro. Altrimenti perde tempo e rischia poi il consuntivo che deve fare a febbraio. Perché se il consuntivo è solare e finisce il 31-12 a febbraio deve fare comunque il consuntivo. Non posso a maggio o giugno non averlo fatto. Non l'ho fatto perché sono stato tutto il tempo a rispondere alle mail. E gli amministratori mi dicono sì, noi riceviamo 150 mail al giorno. Chiediti perché. Se tu hai evaso le mail precedenti in modo sbagliato è chiaro che le mail raddoppiano. E più lavori male più troverai delle mail in più. Se tu lavorassi bene qui c'è un altro congiuntivo allora ti accorgeresti che le mail pian piano diminuiscono. Fino ad avere le 20-30 mail al giorno. Ma se io la persona problematica la lascio andare è come mettere le briglie sul col del cavallo fa quello che vuole. E quindi molte volte anche rispondere alle mail viene fatto senza logica senza metodo e questo comunque comporta comunque degli errori. Tornando al discorso di prima la delega la delega è importante. L'amministratore non è un tuttologo. e deve comprendere che deve comunque delegare. Se no perde tempo. Porto un esempio. C'è un so un cantiere una facciata stiamo facendo una facciata un cappotto mi chiamano e mi dicono il arancione che abbiamo scelto non è quello che c'era nel capitolato aspetti che esco vengo a vedere il cantiere nel momento in cui faccio questo ho perso mezza giornata esco dal mio ufficio vado a vedere un cantiere che non è compito mio io non devo andare in un cantiere o su un'impalcatura io sono un contabile non devo fare un errore di fare lavoro economia per farmi vedere più bravo faccio un grosso errore devo essere comunque molto ordinato nel mio lavoro dico signora ha ragione le mando subito il direttore dei lavori che è compito suo io vedo spesso che ci sono lo dico da avvocato il mio lavoro principale è quello di fare l'avvocato lo vedo nelle lettere amministratori che rispondono che ci sono questioni no perché la legge dice che no no io ho saputo che non è compito tuo lascia fare il lavoro a un avvocato c'è da recuperare un credito io scrivo faccio un sollecito non è compito tuo io ho visto amministratori condannati amministratori che cosa ha fatto per questi crediti del condominio eh io ho fatto il sollecito ho chiamato ma non era compito suo doveva dare l'incarico a un avvocato che doveva recuperare il credito eh ma io ho voluto fare no condannato io ho visto i condanni molto forti anche per questo perché poi non sono stati recuperati questi crediti hanno condannato l'amministratore a pagare la tasca sua per malagestio quindi pensate quanto è difficoltoso per un amministratore ehm dovesse attenere al proprio lavoro ma deve farlo noi abbiamo vari livelli di lavoro i lavori che sono più non voglio essere politicamente scorretto ehm allora porto un esempio che facciamo prima ehm pensate a un tramviere che guida il tram un tassista no? io vado prendo il taxi ogni volta e trovo il posto davanti eh che è pieno di carte carte, le chiavi, il cellulare del eh del tassista e c'è un disordine a volte nel taxi no? quando prendo l'aereo che è un è un piloto un po' più bravo del tassista sono molto ordinati assistenti di volo prepararsi a decollo assistenti di volo a ramare gli scivoli in realtà si conoscono tutti perché decollano due, tre, quattro volte al giorno no? e vanno a mangiare insieme ma non dico Marisa chiudi le porte hanno una procedura più il livello è alto di lavoro più il livello è molto ehm preciso più ci sono degli immazionali ci sono delle regole ben precise pensate che quando chiamo l'idraulico a casa mia arriva con una cassettina cerca la chiave del 10 e Ravana per cercare la chiave del 10 quando si entra nella sala operatoria tutti gli attrezzi sono in ordine perché più le persone sono brave sono professionali sono a livello più alto più sono ordinate e hanno un metodo e quindi anche per entrare in soperatoria c'è il primario che mette così e per fare anche un'operazione c'è il gioco di squadra c'è l'anestesista c'è il caposala c'è il primario chi chi apre chi chiude ci sono delle regole ben precise non ce la faccio tutto io questo è un po' l'errore che fa l'amministratore e infatti tutto questo in cosa si risolve noi in Safoa abbiamo organizzato dei studi amministrativi 65 stabili un dipendente io quando vedo alcuni studi che ci sono 30 quanta stabili 3 dipendenti metto male i capelli come dicevo prima il primo guadagno è la spesa e se mi faccio impantanare in tutte queste cose è chiaro che poi 3 dipendenti non mi bastano perché mi impantano in cose che comunque non mi competono quindi prima di fare qualcosa devo capire se quella cosa devo farla se è di mia competenza e se non è di mia competenza non la devo fare la prima regola di un conflitto che se non è mio non ci deve entrare e le persone devono risolversi i conflitti da soli ma non devo fare comunque il loro lavoro noi molte volte facciamo delle cose contro la legge porto un esempio in un compito dell'amministratore la Cassazione dagli anni 60 dice che l'acqua sanitaria l'acqua potabile va divisa per millesimi di proprietà punto ora se la Cassazione dice così io perché devo dividere l'acqua per teste che è evitato dalla legge e quindi va in assemblea di condominio quanti siete voi e due e quelli no quelli sono tre però c'è la bambina piccola mettiamo tre quote e mezza e quello lì eh ma quello è al bar metti cinque quote e quelli sono metà di mille perché non si capisce mai che non ti sono mettiamo cinque quote questo viene in assemblea di condominio allora se la legge mi dà una regola ben precisa perché non la devo rispettare e qui nasce comunque la mia gestione se la legge mi vieta di fare gli adebiti personali perché li faccio sollecito valvola termostatica io non devo fare gli adebiti personali e sono invitati sono invitati punto i fondi patrimoniali a parte quelli che sono dati dalla legge tipo il TFR o quelli dei lavori deliberati sono evitati i fondi d'accantonamento dagli anni 60 ad oggi la Cassazione è così unanime sempre perché faccio fondo d'accantonamento poi mi pantano poi c'è il condomino che va via perché ha venduto vuole la so quota del fondo perché non lascia un mille e cinquecento euro nel fondo allora diventa un fondo che però non ha più mille e millesimi ma ha novecentocinquanta e millesimi arriva il nuovo proprietario dice io non do i fondi perché non c'è scritto da nessuna parte io mi trovo comunque una situazione che riesco a gestire mi pantano per quale motivo la legge è molto chiara ci dà le regole ben precise e io comunque devo rispettarle anzi più rispetto alle mie regole meglio è se io ho un regolamento di condominio devo rispettarlo ho una legge devo rispettarla punto tutta l'attività dell'amministratore è tutta dettagliata riga per riga su quello che devo fare dal consultivo alle polizze alle verbali alle convocazioni è tutto scritto però devo impiegare del tempo ovviamente devo studiare devo aprire il libro e devo capire esattamente spesso vedo amministratori che operano da particoni perché fate così e abbiamo fatto sempre così porto un esempio nell'assemblea di condominio il presidente dell'assemblea non esiste non c'è nessun codice non c'è nessuna legge non c'è nessuna parte il segretario dell'assemblea non esiste è una figura che non c'è quindi o la trovo nel regolamento di condominio perché c'è scritto o non è che devo dire per forza dovete nominare un presidente perché non posso fare queste cose perché l'ho sempre fatta perché l'ho fatto così io sono un avvocato se un giudice mi dice perché nominate presidente io dico perché c'è la legge non posso dire è perché mi ha spiegato così il mio maestro anni fa mi ha fatto fare così ho sempre fatto così e continuo a fare così se nel codice civile non esiste il presidente dell'assemblea di condominio non per forza devo farlo quindi mi ricordo una volta che andai in un'assemblea per una consulenza ci fu l'amministratore che mentre entravo ha buttato i libri e l'altro via basta ne voglio sapere più io ho trovato una patria molto grande come questa sala e ho detto sentite se volete faccio l'assemblea vi chiudo il verbale e infatti l'ho anche risolto il problema che non riuscivano per cui litigavano dicendo però ha una condizione faccio il presidente e il segretario ma lei non può farlo dove sta scritto noi abbiamo una frase che è una frase latina io ero assistente in dito romano tanti anni fa per questo non parlo più in latino però questa frase è bella quindi la dico ubi lex voluit dixit dove la legge ha voluto lo ha detto quindi io se la legge dice qualcosa la faccio ma se la legge non mi dice niente non devo fare per forza nulla e non devo per forza fare alcune cose perché l'ho vista fare io ho visto fare situazioni patrimoniali mettendo una croce e mettendo attivo passivo senza neanche una formazione di ragioneria perché l'ho copiato questo è un errore questo in un compito dell'amministratore quali sono i compiti dell'amministratore? l'anagrafica condominiale quando io vedo alcuni consuntivi dove ci sono eredi rossi che non esiste eredi rossi o McDonald's che non esiste e questi sono errori grossolani si impugnano i consuntivi così io devo conoscere la grafica condominiale del mio condominio e devo fare questo questo è il mio lavoro e comunque devo farlo spesso non faccio il mio lavoro ma perché non viene fatto il mio lavoro? perché sono oberato di tutte queste piccole cose che mi fanno perdere tempo e nel fare questo quello quello quell'altro mi dimentico quali sono i miei lavori comunque istituzionali noi abbiamo dei portieri i portieri sono tre lavori il portiere come quello dell'albergo che mette le chiavi dietro che l'ha raccomandato custode che pulisce noi abbiamo un portiere senza un masonario non si capisce se è portiere se è custode o se è un'impresa di pulizie non c'è un masonario questo è il nostro lavoro noi ho la Shura Maria che si lamenta dell'infiltrazione o Shurgiani che si lamenta di quelle di quarto piano che fanno comunque la festa e ovviamente devo fare il mio lavoro devo capire esattamente qual è anche la situazione contabile di un condominio io ho visto dei passaggi di consegne che sono comunque pazzeschi ritiro non so regolamento condominiale consegno regolamento condominiale questa è una fotocopia prima un pezzo di carta non firmato non vale niente giuridicamente come questo bigliettino di appunti non vale niente una sentenza non firmata è inesistente quando io prendo un regolamento di condominio in cui le ultime pagine mancano non si capisce per quale motivo non c'è un timbolo nella firma per me è un pazzo di carta non devo neanche firmare ho ricevuto un regolamento di condominio non ho ricevuto niente e invece molte volte noi firmiamo che abbiamo ricevuto questo e quest'altro questo non vale comunque assolutamente niente questo è il mio lavoro il mio lavoro è controllare se ci sono le certificazioni quando c'è una dichiarazione di conformità la classica dico e dietro non c'è una dichiarazione di conformità vuol dire che è conforme a che cosa? non alla legge è conforme al progetto se una dichiarazione di conformità senza il progetto è pinzato dietro non vale niente la posso andare a buttare e io dico ho ricevuto l'impianto elettrico le dichiarazioni di conformità è capitato nel condominio a Milano molto grosso che hanno dovuto fare un'imparcatura enorme che andava su una scuola quindi hanno dovuto fare una mega imparcatura e spostare anche la viabilità fatto il progetto che è stata l'occupazione sullo pubblico e quant'altro hanno chiesto all'amministratore di dargli l'attestazione dell'impianto elettrico e questo è stata la dichiarazione di conformità il comune ha detto no se non c'è il progetto questo qui non vale niente dichiarazione di conformità che cosa ha un progetto e devo comunque pensarlo indietro e non essendoci questo hanno fatto causa all'amministratore e ne ha fatto pagare quattro mesi di occupazione sullo pubblico più l'imparcatura più lo spostamento di abilità e purtroppo è stato condannato perché non ha fatto il suo lavoro spesso perché è impantanato come dicevo da altre cose pensate quanto è importante occuparci del nostro lavoro con serietà e non occuparci di altre cose noi per rispondere alla sua Maria per rispondere al suo Norgialni lasciamo incilofanata nell'ingresso la rivista di categoria che invece dovremmo studiare c'è una riforma che è fatta nel 2012 2013 che non tutti hanno ancora letto e questo è un peccato noi dobbiamo sempre essere aggiornati noi vendiamo un prodotto come l'industriale vende un prodotto il politico vende un'idea noi vendiamo la nostra professionalità e bisogna alimentarla bisogna comunque studiarla bisogna comunque essere sempre aggiornati anche per non incorrere nei rischi della professione ora veniamo a noi tornando al nostro discorso porto un esempio per esempio per le assicurazioni ecco tanto per comprendere un altro non compito dell'amministratore io sono un amministratore e quanto amministratore pago un'assicurazione l'assicurazione paga i danni che vengono fatti agli altri ma in realtà non è così l'assicurazione paga me io sono assicurato come condominio per i danni che il mio condominio provoca quindi porto un esempio se io ho una tegola del mio palazzo che cade sul tettuccio di una macchina e lo sfonda io condominio devo pagare mille euro la riparazione della macchina punto per questo danno io sono assicurato l'assicurazione fa il bonifico sul conto corrente del condominio non paga direttamente la macchina questo è lo schema lo schema sono due posizioni io con l'assicurazione che è un contratto privato preciso l'assicurazione e il condominio non è obbligatoria quindi parlando anche di formazione non capisco perché spesso gli amministratori pur di pagare l'assicurazione mettono i soldi in tasca loro o ho visto anche da un altro condominio se l'assicurazione non è obbligatoria non sono obbligato a farlo se ci sono i soldi la faccio non ci sono i soldi non la faccio poi sono responsabile io in una causa di accettamento di responsabilità tornando al discorso dell'assicurazione io condominio mi assicuro con l'assicurazione la tegola cade addosso alla macchina io devo pagare la macchina e poi verrà comunque esercito cosa fa l'amministratore? fa un discorso triangolare quindi aspetta di ricevere i soldi dell'assicurazione per poi poter pagare comunque la macchina e no è sbagliato se io ho la macchina che è rotta io amministratore ti pago subito il giorno dopo così non ti sento più non mi scrivi non ti lamenti non vai in assemblee di condominio portandomi di deleghe contro non mi fai fax non vieni senza appuntamento e sei anche contento io ho fatto il mio lavoro perché questo è il mio lavoro poi con calma oppure con l'assicurazione pensate che la gestione dei sinistri in un ufficio di amministrazione è così impantanata perché l'assicurazione ovviamente ha fatto tutto per perdere tempo spesso i liquidatori sono pagati per quanto non pagano l'assicurazione o per hanno loro provvigioni anche sul tempo che fanno perdere quindi è chiaro che facendo così impantano tutto quanto faccio il gioco di assicurazione faccio le priorità dell'assicurazione l'assicurazione ha le sue priorità quelle di perdere tempo e quelle di pagare il meno possibile la signora ha il suo scopo non le sue priorità ha quelle di speculare e portarmi una fattura gonfiata su un danno che è comunque piccolo la malagestio mia mi comporta che tra le loro priorità chi subisce sono io io invece mando il mio operaio riparo subito la riparazione e faccio il mio lavoro e nel momento in cui faccio la riparazione poi me la vedo con l'assicurazione viceversa ho un'altra possibilità se io incomincio a mettere in contatto che l'assicurazione valuta il danno e poi aspetta che il perito esce che il perito comunica l'assicurazione il liquidatore l'importo da assicurare aspetto che mi venga data non esco più pensate che nei studi amministrativi però in sinistro c'è un fascicoletto e nei studi amministrativi che sono piccoli c'è una segretaria che si occupa il giovedì pomeriggio ad esempio di sinistri nei studi grossi c'è una dipendente che si occupa soltanto di sinistri cioè capite un amministratore paga 25.000 euro all'anno una dipendente per gestire questi sinistri quando in realtà pagando subito avrebbe un guadagno lui la persona e tutti quanti io pago oggi il sinistro quando è successo? 10 ottobre 15 ottobre lo pago punto l'assicurazione paga l'anno dopo pazienza la cambieremo mi dà una franchigia non mi interessa anche perché è danneggiato se io ho la mia macchina col tetto sfondato non mi interessa se la compagnia mi dà la franchigia c'è il massimale o se mi dà il depreciamento io ho una fattura di 1000 euro del tattuccio voglio 1000 euro e non vado a impantanarmi in uno preventivo perché il preventivo è l'opinione che il meccanico ha della riparazione potrebbe essere verniciata a caldo a freddo pezzi originali pezzi usati pezzi non originali cosa mi interessa io chiedo una fattura originale pago punto e basta lo metto come condizione ma mi sbrigo subito ecco andare comunque invece a interessarmi in una situazione che non è quella che mi compete i più di volte pago un prezzo come lo pago il prezzo col tempo e il tempo è vita speccare il tempo è speccare la vita dominare il tempo e dominare la vita e concludo che siamo più o meno quasi direttore d'arrivo poi lascio se vuoi fare qualche domanda abbiamo tutti 168 ore da vivere a settimana né più né meno speccare un'ora non lo possiamo più comprare neanche a mercato nero io a mercato posso comprare tutto meno il tempo ed è quello che comunque mi serve pensate che gli amministratori lavorano dell'ora supplementare a Iosa e molte volte non riesco neanche a stare con il loro guadagno neanche a gestire tutte le cose perché sono oberati da impegni di cose che non li competono non facendo attenzione su cosa devono fare e cosa devono fare e speccono comunque così il tempo bene detto questo io chiudo che sono nella mia ora ho qui mi sono messo il cellulare perché so che quando parlo di queste cose che vedete parlo a braccio io parlerò anche tra i giorni sono il piccolo argomento come Enrico Bjorn noi facciamo dei seminari due o tre giorni quindi ridurle così sicuramente è limitativo però c'è anche una passione perché queste cose le ho vissute personalmente e mi hanno portato a vedere sul concreto le opportunità che ci può dare una gestione del tempo e soprattutto come diceva Anna Leiken fare le nostre priorità e non per le priorità degli altri tutti vogliono che noi facciamo le loro priorità nel fare le priorità degli altri mi perdo la mia priorità è la mia organizzazione e il mio tempo la mia azienda pensate che nello studio che è stato fatto nel 77 nella PNL si è studiato che le persone di successo sono quelle persone che dedicano più tempo a se stesse che agli altri porto un esempio me lo invento Obama la mattina si dedica soltanto a se stesso a come si veste a come parla al discorso alla cravatta al suo detto stampa al suo detto social al suo detto pomeriggio esce fuori e firma il decreto saluta i bambini della scuola fa il pubblico intervento firma il decreto pomeriggio fa questo se noi amministratori la mattina ci dedicassimo a noi stessi a studiare il programma gestionale a motivare la segretaria a gestire i sinistri con intelligenza a dedicare mezz'ora al giorno ad aggiornamenti le procedure interne i mansionari se ci dedicassimo a noi stessi avremmo un ufficio molto più efficiente con molto meno personale ma molto più preparato molte volte io vedo amministratori che sabato mattina sono lì che cos'è il tempo? il tempo è vita sprecarlo è sprecare la nostra vita se io avesse un'azienda o una fabbrica la fabbricchetta di papà va male e chiedo a mio padre i soldi per mettere in una fabbrica e dico adesso la fabbrica va bene no è sempre fallimentare ho barato ho messo i soldi di mio padre nella fabbrica e dico che va bene ma la mia fabbrica è fallimentare se io ho otto ore al giorno per lavorare e baro perché vado a lavorare sabato mattina io rubo tempo alla mia famiglia ai miei figli ai miei affetti il tempo mi consente anche di curare gli affetti sottraggo tempo alla mia famiglia sottraggo risorse a loro non vado a vedere la partita di calcetto di mio figlio e vado e metto comunque a lavorare quindi sabato lavoro così sono impari no è sempre fallimentare ho sprecato la mia vita in un video di formazione che facciamo noi facciamo vedere come le aziende licenziano le persone che fanno gli straordinari perché se si lavora entro otto ore e si fa il lavoro fatto bene è un buon dipendente se continua a fare straordinari non è un buon dipendente e quindi va licenziato è molto triste questa cosa questo vale anche per noi se io il mio lavoro non riesco a fare in otto ore devo chiedermi perché bene e con questo ho concluso grazie c'è certo era una finta non l'ho conclusa forse venire qui perché magari non la sentono a casa l'avvocato ha parlato della gestione del tempo io sono più di 40 anni che mi occupo di amministrazione immobiliare e quindi concordo in buona parte quanto le ha detto ovviamente ci sono sempre poi delle fumature che sono il frutto di esperienze poi personali che noi viviamo sulla gestione del tempo io sono veramente d'accordo però io aggiungerei se mi permette anche una cosa in più è importante che l'amministratore anche dedichi un po' di tempo all'aggiornamento ma l'aggiornamento non solo partecipando ai vari corsi eccetera primaveri i 14 punti quello è un aggiornamento perché la legge ce lo impone però dedicare qualche minutino o a casa oppure nel proprio ufficio ad aggiornarsi perché l'aggiornamento è molto importante noi abbiamo delle riviste abbiamo dei giornali sulle 24 ore Italia Oggi eccetera che ci danno perché è molto importante secondo il mio punto di vista lei ha menzionato più volte fatto riferimento alla Cassazione e io sono pienamente d'accordo con lei scusi io sono laureato ma in economia e commercio però sono un cultore anche del diritto e quindi sono a contatto con gli avvocati quindi so benissimo e credo che sia molto importante perché l'aggiornamento non viene fatto soltanto perché conoscere le norme mi sto permettendo di dare dei consigli e non voglio prevaricare quanto l'hai detto voglio essere chiaro però attenzione le norme le norme di legge la legge 220 che è una nuova riforma sono norme che vengono interpretate dai giudici quindi noi dobbiamo attenzione fare riferimento più alle sentenze come in certi casi vengono vengono trattate dalla giurisprudenza quali sono le sentenze che vanno a disciplinare poi di fatto sono sentenze specialmente della Cassazione se sono unite poi in particolare meglio ancora quelli sono degli strumenti e essere preparati anche dal punto di vista meramente giuridico guardate che ci aiuta moltissimo perché il contenzioso come dice l'avvocato sono d'accordo il contenzioso è molto elevato nel condominio grazie non volevo creare problemi con i microfoni un attimo solo così mellaccio a quello che stava dicendo a lei la conoscenza potere porto un esempio l'impresa di pulizie il dipendente l'impresa di pulizie deve fare il corso sulla sicurezza generale sull'infortunistica sul primo soccorso e deve avere il medico di lavoro che deve fare con lui una visita ogni anno questo mi comporta che io ho la conoscenza per poter scegliere le aziende migliori io ho il potere di non soccombere con l'assemblea di condominio quindi assumiamo la mia cugina che è bravissima alle mani di fata va bene mi dà le visite del medico del lavoro ah no non la facciamo mi spiace non posso io già posso mandare via buona parte delle imprese perché so che non sono in regola e quindi faccio fuori tutti quanti dicevo prima per esempio quando un elettricista è scritto alla Camera del Commercio con la lettera A può fare gli impianti ad alta tensione tipo messa a terra cancelli automatici se invece è scritto con la lettera B può fare quelli a bassa tensione quindi antenna citofono e quant'altro i progetti quando devo fare il citofono e mi dicono mio cugino è bravissimo perché ha le mani di fata come fa lui gli impianti bene faccio il mio studio mi dà il progetto del lavoro no i miei progetti non ne faccio mi dispiace ho fatto fuori tutti quelli che non volevo e scelgo quelli che sono professionali pensate quanto è importante avere la conoscenza quindi perché ogni volta che si va in assemblea il condominio purtroppo i condomini propongono cugini muratori faccendieri di tutto e noi ci troviamo in difficoltà perché bisogna sapere di dire di no ma come dicevo prima la conoscenza mi dà la capacità di saper dire di no e quindi è importante questo riesco a dire di no a tutti riesco a dire di no se voglio quindi pensate nel potere che ho pensate la buona buona parte le imprese di pulizia non sono in regola noi magari abbiamo l'unilav della persona che lavora ma non di quello che fa la rotazione sacchi e andiamo nei guai con grande responsabilità ecco e spesso non si ha il coraggio di mandare via delle imprese che non sono capaci la conoscenza tecnica vedete quanto è importante nei workshop quanta professionalità c'è dietro io devo lavorare con dei buoni professionisti perché io delego quasi tutto e più delego a persone competenti più riesco comunque a dare comunque un buon lavoro più delego a loro incapaci più vado nei guai quindi è importante questa cosa è importante la conoscenza tecnica perché è libertà e posso fare un po' quello che voglio e soprattutto perdo meno tempo grazie ci sono altre domande? va bene ma non ci vedo grazie perché il relatore è cecato questo senza occhiali non riesco il presidente dell'assemblea non è previsto dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile probabilmente si riferisce la domanda a dopo la riforma allora con la riforma del codice civile adesso con l'assemblea online è stato introdotto la figura del presidente ma non è stato dato niente non è stato dato un decalogo mentre l'amministratore ha tutte le sue attribuzioni cosa deve fare e cosa non deve fare nell'assemblea online è stato introdotto l'articolo 66 ma stiamo parlando dell'anno scorso stiamo parlando comunque dell'anno scorso 2020 quindi neanche un anno intero è stato introdotto la figura del presidente è vero questo c'è ma è una chicca ed è stata fatta male non l'ho detto prima perché in un discorso generale non posso parlare di tutte le eccezioni di questa cosa però non è necessario non è necessario il presidente non è una figura così necessaria come la fanno credere comunque spesso comunque gli amministratori soprattutto l'assemblea online certo l'assemblea online è una cosa comunque un po' diversa che poi non viene neanche fatta perché il codice divide tra assemblee in presenza e assemblee online invece in realtà si sta facendo delle assemblee miste come in questo caso ad esempio assemblee comunque in presenza comunque online quindi è vero l'articolo 66 disposizione d'attuazione del codice civile prevede questa cosa però è una cosa comunque in embrione a me spiace noi abbiamo un codice civile che molte volte è lacunoso noi pensate che abbiamo ancora la prima e la seconda convocazione dell'assemblea di condominio che ci fosse la buonanima di fantozzi direbbe una cagata pazzesca scusate il termine però è così abbiamo per esempio per nominare il delegato all'assemblea del supercondominio abbiamo un quorum di due terzi ma chi l'ha visti i due terzi in assemblea di condominio che votano favorevolmente ma quando mai pensate che se c'è uno scienziato atomico che dice io non voglio l'ascensore tutto il palazzo deve essere munito delle chiavi dell'ascensore io posso andare fino a domani mattina a dire tutte le incongruenze che ci sono nel codice civile noi abbiamo per esempio la differenza tra il libro verbali che è un libro rilegato e il registro di contabilità che deve essere comunque che il registro invece è un faldone quindi non è rilegato però molte volte si imbraniano tanto noi abbiamo un verbale che non è un processo verbale un processo verbale dove scrivo tutto quanto dall'inizio fino alla fine come fanno i pianisti al Parlamento come fanno i processi penali con le bobbine che girano noi abbiamo un verbale che è una sintesi come quando passo col semaforo rosso che mi fanno il verbale nome e cognome cosa ho fatto punto io nel verbale cosa devo scrivere devo scrivere chi è presente che cosa ha liberato tutto il resto non devo scrivere però poi più avanti nel 1130 il legislatore si sbaglia e il verbale lo chiama processo verbale ma non deve scrivere così ce l'ha chiamato prima che era un processo verbale poi lo scrive dopo è un errore pazzesco il codice civile comunque è così noi dobbiamo comunque lavorare su queste cose però bisogna fare attenzione a questo sapere perché se ci fa un'eccezione come in questo caso mi hanno fatto bisogna sapere comunque rispondere e questo è il nostro lavoro bene con questo chiudo e ringrazio tutto quanto soprattutto ringrazio l'organizzazione che in un periodo così difficile col covid con la pandemia con tutti i problemi che abbiamo sono riusciti comunque a mettere sui piedi anche quest'anno una fiera sul condominio e dare un'opportunità a me e a tutti quanti voi grazie